Ben trovati, Romney, lo sfidante di Barack Obama, ha affermato che qualora dovesse essere riconfermato il Presidente degli States, l'America rischierebbe di divenire come l'Italia. Ecco, siamo diventati il riferimento in peggio anche di potenze, di colossi come appunto gli Stati Uniti d'America. Alla domanda cosa serve per aver successo, molti giovani italiani, attenzione la disoccupazione, continua a salire, continua a salire per coloro che hanno meno di 34 anni e continua a persister per coloro che hanno perso lavoro dai 45 ai 50, quindi un dramma per il nostro Paese. Ritorniamo alla domanda, cosa serve per aver successo? I giovani rispondono conoscenze. Attenzione, ebbè certo, vi ho fatto tanti esempi, quante volte i meriti sono disattesi e sono invece premiati i meriti di essere parenti e affini dei potenti. Cosa si cerca nel lavoro? Stabilità è la maggior parte delle risposte. E qualcuno malignamente potrebbe dire, certo i giovani cercano la stabilità, il posto fisso. No, la stabilità è la prosecuzione e la continuazione di un mensile per poter avere progetti. Oggi manca, in tante nuove generazioni, ma anche nei quarantenni, la speranza per il domani, per il futuro. Stessa speranza e stessa stabilità che invece i politici riescono a preservare. La prossima settimana vi farò lo specchietto di tutti quei signori eletti alla Camera e al Senato di Lecce, Brindisi e Taranto di quanti anni sono lì sulla loro poltrona stabile, intoccabile, ingluteabile. Sì, ve lo farò vedere e vi farò vedere anche la loro attività parlamentare, perché se ricorderete prima dell'estate io vi dissi, anzi io chiesi a loro, mandatemi una relazione, mandateci una relazione sulla vostra permanenza romana, sul vostro impegno. Avete ricevuto nulla? No, solo qualche consigliere regionale ha fatto avere al sottoscritto dei resoconti come Brigante o come il consigliere regionale dell'Italia dei Valori, già sindaco di Poggiardo. E allora altri si sono dispersi, altri non hanno fatto sapere nulla e cercherò di rendicontare io a voi la loro attività o inattività. Ma questi signori, che probabilmente potranno essere confermati o meno, oggi hanno detto sì a un governo Monti, che ci sta massacrando, ma è un'altra valutazione da fare, su questa pagliacciata della riduzione delle province. Mi spiego meglio, in Italia grandi riforme non se ne faranno mai, vere riforme non se ne faranno mai, perché secondo me o si eliminavano completamente tutte le province e si ridisegnava anche l'Italia e l'Italia delle regioni, oppure si eliminavano completamente tutte le regioni e si ritoccava qualche confine provinciale. Invece cosa hanno fatto? Hanno tagliato con la cesoia, hanno dimezzato gli enti province in Italia e sapete cosa succederà fra qualche mese? Che probabilmente sarà messo nuovamente tutto in discussione. Perché? Perché il futuro Parlamento, con un futuro Presidente del Consiglio, espressione della politica, potrebbe rivedere tale decisione, perché al Nord c'è malcontento e quando le popolazioni del Nord si incavolano, i parlamentari di lì sono ben più attivi, come quando si bloccano meno le ferrovie, e quindi i trasporti pubblici, sì, succederà probabilmente, ma così è un'ipotesi che io faccio, alla quale posso credere o meno, che le province permarranno, perché al Nord hanno unito entità territoriali e culturali completamente differenti e quindi già emerge la voce del dissenso della politica. E poi rischiamo di incrementare la disoccupazione. Già tanti oggi assessori provinciali che si credono, come dire, i piccoli leader nazionali sul territorio, sono con il mal di stomaco perché potrebbero perdere quell'incarico politico, anche perché molti di questi sono stati anche, come dire, eletti dal popolo. E tanti presidenti delle province stanno iniziando a dire che loro soli, con tre soli collaboratori su territori ben più vasti di quelli che sino ad ora hanno governato, non riusciranno a portare avanti l'impegno per il bene comune, ossia per tutti quanti noi. Ecco perché rischeremo, magari, in quanto si dovrebbe votare da qui a un anno e poi rendere effettive le province nel 2014, rischeremo da qui a un anno non di votare, di non vedere alcuna novità. Spero che nel prossimo Parlamento si abbia la forza, in caso di revisione del taglio delle province voluto dal governo Monti, di un disegno nuovo di questo Paese, anche perché non dobbiamo più correre il rischio che sfidanti americani importanti abbiano l'Italia come esempio negativo.